Questa sera a Borderenze vogliamo analizzare quello che potrebbe annidarsi dietro alcuni eventi un po singolari che si sono registrati negli ultimi giorni nelle ultime settimane in particolare lo scandalo tra virgolette che ha coinvolto una vera e propria istituzione sia per quanto riguarda il covid ma non solo e anche che ha ispirato molte delle decisioni americane il dottor Fauci è caduto in disgrazia dopo che alcuni giornali e alcuni mezzi di informazione molto importanti in America hanno pubblicato le sue email dalle quali insomma ne esce uno spaccato decisamente negativo giusto perché sa con effemismo del dottor Fauci e poi quello che sta accadendo in questi giorni con l'ipotesi artificiale del virus che continua a essere tema di discussione ricorderete che un anno fa chiunque si azzardasse a mettere in dubbio la storia del pipistrello veniva additato come terrapiattista e via dicendo. Allora per capire meglio ho voluto qui con noi questa sera Enrico Carotenuto direttore di Coscienze Rete analista benvenuto Enrico. Ciao Fabio salve a tutti gli spettatori di Border Nights. Ecco Enrico che in questi mesi stanno facendo dei video molto interessanti che si trovano appunto sulla pagina di Coscienze Rete su Facebook sul canale YouTube di Coscienze Rete l'ultimo che hai fatto riguarda proprio Fauci e fa riflettere proprio no su che cosa sta accadendo perché non interessa non tanto Fauci in quanto tale ma ovviamente quello che rappresenta e quali sono le dinamiche del potere in certe situazioni storiche e tu sei partito da un fatto molto interessante cioè quali sono i mezzi di informazione che l'hanno affossato di fatto? Beh sì perché dunque nel mio video ho analizzato la questione in questo modo da una parte l'analisi di quello che emerge dal Fauci Gate vero e proprio dall'altra quello che emerge se si analizzano appunto le fonti del Fauci Gate e questa parte del lavoro qui proprio quella sulle fonti credo che sia ancora abbastanza unica nel panorama delle analisi politiche che si trovano in rete ma io direi di partire rapidamente descrivendo prima il Fauci Gate o almeno come l'ho visto io cioè vengono alla luce più di 3000 email da e verso Anthony Fauci da cui esce fuori che il virologo sapeva cose che avrebbero potuto cambiare anche di molto il modo in cui tutti noi abbiamo vissuto la pandemia per esempio sapeva che c'era una particolare una particolare sezione della sequenza del virus che poteva benissimo essere il prodotto di una ricerca quello come si dice gain of function cioè di aumento di funzione una di quelle ricerche che servono a rendere un virus più trasmittibile o i suoi effetti più forti o più deboli comunque Fauci aveva dichiarato pubblicamente varie volte che fosse impossibile che il virus appunto fosse stato creato in laboratorio e che fosse diventato infettivo per l'uomo in maniera del tutto naturale infatti come dici tu chi accennava al fatto che potesse essere uscito da un laboratorio veniva trattato come un terrapiattista compresi alcuni studiosi indiani che avevano pubblicato un paper nel quale diciamo però in questa sequenza del virus ci sono delle somiglianze impressionanti con delle parti che si trovano nell'HIV e come ci sono finite in questo SARS e questo era uno studio che era stato subito fatto ritirare e bollato appunto di terrapiattismo però esce fuori dopo che nel laboratorio di Wuhan proprio lì fino a pochi mesi prima dell'inizio della pandemia si stava conducendo una ricerca molto discutibile perché era una ricerca per vedere come un coronavirus dei pipistrelli avrebbe potuto trasmettersi agli umani in particolar modo appunto quali variazioni della proteina spike avrebbero potuto favorire o meno questo fenomeno quindi capisci che è un è diciamo uno studio abbastanza legato stranamente legato a quello che è successo ovviamente Fauci sostiene che non si trattasse di ricerca gain of function altri scienziati invece di alcune università si ostengono che si tratti cioè che non può essere altro che inequivocabilmente proprio ricerca gain of function inoltre questa ricerca qui era pagata almeno in buona parte con i fondi dell'NIH che è l'istituto nazionale della salute americano la cui branca l'NIH l'istituto nazionale delle allergie e malattie infettive è diretta proprio da Fauci quindi diciamo c'è un legame con con questa ricerca strana e guarda caso esce fuori poi con il tempo che forse questo virus viene proprio da un laboratorio allora poi tra l'altro queste ricerche gain of function sono bandite negli Stati Uniti dal 2014 e quindi sembra uno dice perché il direttore dell'NIH americano fa una ricerca di questo tipo se non ha niente di di strano non se la fa in casa ma la fa fare a Wuhan va beh è una serie diciamo di sfortunate coincidenze si sono allineate le stelle perché il povero Fauci appaia venga messo in mezzo oppure oppure no è possibile che Fauci abbia perfettamente ragione che tutto sia si sia svolto nei termini in cui lo racconta lui certo però che non so te ma se io dovessi scommetterci la salute sapendo queste cose non so se punti sulla coincidenza o sul dolo anzi so esattamente dove punterei ora lascio che gli spettatori si facciano la propria opinione e poi un'altra cosa poi che viene fuori da queste email di Fauci è per esempio che lui fosse da sempre conscio del fatto che le mascherine non hanno impatto sulla trasmissione del virus e questo è divertente perché emerge chiaramente in uno scambio di email tra Fauci e una certa Silvia Barwell ora chi è questa Silvia Barwell è un pezzo grosso è il segretario alla salute del governo Obama cioè quindi è una persona che era anche fondamentalmente a capo di Fauci nel passato ora questo scambio tra la Barwell e le Fauci si svolge in maniera molto familiare lei lo chiama Tony nell'email gli chiede Tony la gente mi dice di portarmi una mascherina per andare in aeroporto dovrei farlo e Tony risponde Silvia le mascherine in realtà servono agli infetti affinché non spargano l'infezione le mascherine che si comprano nei negozi non sono efficaci perché il virus è abbastanza piccolo da passarci in mezzo comunque potrebbero avere qualche piccolo beneficio nel fermare grandi gocce nel caso qualcuno ti tossisca o ti starnutisca addosso quindi non raccomando che indossi una mascherina i tuoi istinti sono corretti è meglio spendere i soldi su cure mediche di tipo diagnostico sui vaccini cioè questo è quello che c'è nell'email di Fauci a una sua amica pezzo grosso della sanità americana quindi diciamo probabilmente il consiglio più veritiero che gli poteva dare ora che succede che lui dopo aver dato questo consiglio alla sua amica a febbraio dello scorso anno va in televisione e più o meno ripete la stessa cosa al pubblico dopo un po' però dopo qualche giorno cambia clamorosamente idea e comincia a dire che bisogna indossare mascherine bisogna stare attenti bisogna quello che abbiamo vissuto in pratica e quindi anche questo è una cosa che insomma ci fa ci fa pensare soprattutto perché ci dice una cosa una cosa che sembra sfuggire ai più però è questa e che è incontrovertibile cioè lui dice che di aver cambiato idea dopo di aver detto che le mascherine servivano perché prima aveva mentito cioè dice prima ho mentito perché volevo evitare la corsa alle mascherine e salvaguardarle per gli ospedali per i centri di ricerca per le persone a cui servivano veramente ora questo può essere però dice una cosa molto interessante perché dice che uno dei virologi di più chiara fama al mondo non si fa problemi a mentire al mondo intero per una buona ragione per una cattiva ragione sempre bugia è poi un'altra cosa divertente che ho trovato oddio divertente far ridere in modo piuttosto amaro è che è la questione asintomatici ora i media come sappiamo tutti ci hanno bombardato per mesi col pericolo asintomatici dopodiché viene fuori da questa email che Fauci dice esattamente questo in una di queste email anche se la trasmissione asintomatica dovesse accadere cioè è molto in forze è molto improbabile che diventi un fattore epidemico importante perché la stragrande maggioranza dei contagi avvengono attraverso i sintomatici ecco ora questa è un'altra cosa che ha impattato molto la nostra vita perché impatta direttamente sull'utilità dei lockdown e quindi come abbiamo vissuto noi come ha vissuto l'economia insomma un po' tutto di quello di cui si parla nei nostri ambiti da tanto tempo e impatta anche soprattutto l'affidabilità di quello che ci raccontano i media perché diciamo quello che emerge in questa email è simpatica in questo senso Fauci dice che le informazioni riguardo una possibile trasmissione asintomatica gli arrivano non da uno studio sai che a noi quando un dottore o qualcuno non ha allineato dice ma potrebbe essere in quest'altro modo gli dicono no non ci sono studi che attestano questa cosa e quindi dobbiamo andare con quello che sappiamo certamente Fauci in questa email invece dice che questa informazione sulla trasmissione asintomatica gli è arrivata da un collega di Pechino che gli ha detto che lui è convinto che ci sia ora io vorrei capire perché questa informazione basata su questo serio dato scientifico è finita su tutti i media mentre altre affermazioni che ho trovato nell'email per esempio ho trovato un'informazione nell'email del primo marzo in cui veniva avvertito Fauci che c'era una ditta che aveva fatto degli esperimenti con dei fans che lei produceva con degli antinfiammatori e in questo email c'è scritto chiaramente che se presi precocemente cioè i primi sintomi di malattia questi infiammatori aiutavano clamorosamente a ridurre l'infiammazione e i sintomi che poi diventavano man mano più gravi e sappiamo tutti come si svolge la malattia ecco ora io vorrei capire perché questa informazione qui in questa email non è diventata di dominio pubblico non è stata pubblicizzata da Fauci pure avendo più o meno lo stesso peso scientifico di quell'altra che invece ci ha rovinato la vita per un anno e mezzo e quindi un po' mi viene da sorridere un po' amaramente dove eravamo rimasti? dunque questa è la questione delle mail cioè questa è la questione prettamente legata a quello che c'è scritto in queste email invece poi c'è un'altra parte di cui ci dovremmo preoccupare che è il chi ha mandato in giro queste email perché io sono, mi fido poco ormai in più di dieci anni che mi occupo di coscienza in rete, mi occupo di analisi politica mi sono reso conto che devi sempre guardare chi parla allora andiamo a vedere chi parla perché il FauciGate è stato presentato sui social in giro soprattutto sui social come una serie di email che sono state trafugate ovvero leaked quindi qualcosa che è sfuggita e è arrivata fino a noi infatti il FauciGate viene spesso chiamato anche FauciLeak in rete ma questo non è per niente quello che è successo ma non lo dico io, lo dice la Reuters se aprite la Reuters c'è un articolo che parla proprio di questo in cui loro fanno il debunking del fatto che sia un leak e dicono no guardate queste informazioni sono state rese pubbliche tramite il Freedom of Information Act una legge che permette praticamente a chiunque di richiedere i documenti della pubblica amministrazione in America e questo è il bello cioè chi ha fatto la richiesta per avere queste email? un complottista? no, le hanno fatte il Washington Post il sito BuzzFeed e la CNN ora, perché è interessante che siano state proprio queste tre aziende a richiedere le email? perché fanno parte chiaramente dello stesso apparato che ha sempre supportato Fauci nel senso che il Washington Post per esempio è sempre stato lo strumento preferito di una certa parte del potere americano preferito quando occorre tirare fuori degli scandali in maniera autorevole cioè questa cosa l'ha tirata fuori il Washington Post e quindi è seria, è veramente seria per esempio furono proprio i giornalisti del Post a far scoppiare il Watergate lo scandalo che portò alle dimissioni del presidente Nixon, dell'allora presidente ed è lo scandalo da cui poi prendono il nome tutti i Gates come questo Fauci Gates ecco, una cosa molto interessante riguardo al Washington Post oltre a questo loro ruolo storico è che dal 2013 il Post appartiene a Jeff Bezos il proprietario di Amazon ora Bezos è uno che ama fare finta di essere super partes, imparziale se aprite, se cercate in rete troverete vari articoli in cui anche i media mainstream si chiedono ma questo Bezos è di destra e di sinistra, è repubblicano e democratico perché lui sovvenziona tutte e due manda i soldi da tutte e due le parti e si dà un'area di neutralità però chi ha seguito un po' le vicende avrà notato che Bezos ha sempre molto dato addosso a Donald Trump ora questo che significa? Donald Trump è un esponente molto visibile di una corrente che io definisco avversa alla corrente di cui fa parte Bezos e quindi per definizione Bezos fa parte diciamo di questa corrente che tu sai noi di Coscienza in Rete definiamo Gesuito-Massonica ora quindi abbiamo curato che Bezos sta da questa parte scusa mi volevi chiedere qualcosa? no no ti seguo con interesse vai proseguire ok abbiamo curato che Bezos sta diciamo da una parte politica in maniera abbastanza evidente visti i suoi continui attacchi a Trump vediamo allora gli altri player il secondo è questo sito BuzzFeed che è uno dei siti più famosi della rete anche a livello economico perché ha una valutazione di circa un miliardo e mezzo di dollari quindi non stiamo parlando proprio dell'ultimo dei siti e questo sito è stato fondato da due signori uno si chiama Giona Peretti che è anche il fondatore dell'Huffington Post ora basta guardare l'orientamento dell'Huffington Post per vedere a quale corrente o piramide come si voglia faccia riferimento per chi non se n'è accorto l'Huffington Post è un giornale fondamentalmente molto simile a Repubblica e quindi possiamo tranquillamente dire che anche BuzzFeed che anche l'Huffington Post e quindi il suo fondatore fanno parte di una certa area politica e poi il secondo fondatore di BuzzFeed è una strana coincidenza perché si chiama John S. Johnson III ed è il pronipote di Robert Wood Johnson il fondatore della Johnson & Johnson quindi ora io non so se questo signore abbia ancora delle azioni della Johnson & Johnson se abbia voce in capitolo non lo so francamente non ci sono andato a guardare però mi ha fatto molto sorridere il fatto che viviamo in un mondo di coincidenze fantastiche a volte e poi quindi abbiamo visto i primi due di tre vediamo il terzo il terzo è la CNN e la CNN lo sappiamo tutti che non ha fatto altro che dare addosso a Trump per cinque anni sono anche finiti in tribunale e quindi possiamo dire che anche questo orbiano è schierato nella stessa piramide nella stessa corrente di BuzzFeed e del Washington Post ora appurando questo e tenendo in mente che Fauci e Trump erano molto ai ferricorti anzi Trump ha fatto di tutto per levarselo di mezzo potremmo potremmo dedurre che lo stesso apparato di potere che è dietro i tre media outlet che abbiamo visto è anche dietro a Fauci però giustamente uno si fa questa domanda ma se sono gli stessi che fino a ieri lo hanno portato in braccio se lo sono tenuto caro e lo incensavano perché proprio loro gli sparano addosso perché sono stati loro a tirare fuori il Fauci Gate alla fine dei conti e perché farlo adesso? Ora agli occhi di uno che si avvicina adesso all'analisi politica tutto questo sembra assolutamente non avere alcun senso però un senso secondo me ce l'ha e il mio punto di vista è che se è successa questa cosa in questo momento se Fauci è stato esposto dallo stesso apparato che l'ha sempre protetto significa che qualcuno sopra di lui ha deciso così qualcuno sopra di lui all'interno di questo apparato ora noi in Italia abbiamo visto cose simili tante tante volte in ambito spettamente politico possiamo pensare alla fine di Andreotti a Craxi a quello che è successo anche a Letta più recentemente quello che è successo a Conte cioè vediamo periodicamente personaggi che vengono incensati fino a un momento a un momento prima da alcuni apparati media e politici e il giorno dopo vengono scartati e buttati praticamente nel dimenticatoio allora perché può succedere questa cosa? nel caso per esempio della staffetta Conte Draghi questa cosa noi pensiamo sia successa perché Draghi è un personaggio più adatto a gestire la nuova fase che sta avvenendo di quello che loro stessi da Davos chiamano il grande reset quindi adesso che si tratta di dover impiegare miliardi su miliardi di fondi per cambiare l'economia fare tutte quelle belle cose che ci raccontano serve una persona molto di fiducia che sappia gestire questa cosa qui nel modo giusto nel modo giusto non per noi ovviamente nel modo giusto per chi deve fare questa operazione e quindi una cosa simile credo stia accadendo a Fauci quindi presumo che a breve si passerà anche dal punto di vista della cima della virologia e della gestione della sanità le redini penso che dovranno passare a qualcuno più in grado di fare meglio certe cose e questo lo vedremo se è così lo vedremo ma ci sono altri motivi per cui si può cioè per cui un apparato improvvisamente può cominciare a dare addosso a un proprio membro una di queste è una funzione molto importante cioè la funzione di capo espiatorio e perché è importante perché il capo espiatorio fa molte fa molte cose per esempio per capirlo pensiamo sempre a Craxi a quando fu fatto il golpe che poi è stato chiamato Tangentopoli fu proprio Craxi cioè era lui che era il politico più in vista quello che fino al giorno prima su tutti i giornali era lo statista del secolo ad essere additato come il ladro più ladro e addirittura che lo hanno aspettato fuori dall'albergo dove viveva con le telecamere e tutto con la folla per fargli il lancio delle monetine una cosa impressionante quelli che hanno almeno la mia età questa cosa se la ricordano come un fatto molto impressionante e questo come in questo caso qui furono proprio gli stessi protettori di Craxi che da un giorno all'altro sono spariti quelli che lo incensavano prima e il giorno dopo gli tiravano le monetine in diretta tv ma perché perché il capro espiatorio serve sempre quando occorre portare a termine un'operazione delicata un'operazione che coinvolge l'opinione pubblica e Craxi o il capro Craxi come lo chiamo io fu perfetto per mettere in pace l'anima di tutte le folle che stavano seguendo in quei giorni quello che succedeva quindi con il capro espiatorio si mettono in pace le folle lo si punisce o lo si manda in esilio e chi resta e chi resta sono il resto dell'apparato che c'era fino al giorno prima e che teneva Craxi si imbraccia chi resta diventa come per magia immacolato e infatti da noi hanno lanciato la seconda repubblica gridando è finita la corruzione li abbiamo arrestati tutti li abbiamo mandati via tutti ah che bella è nata la seconda repubblica ora Fabio dopo 30 anni si potrà dire che non è finita la corruzione con con Tangentopoli proprio di sì direi di sì e quindi e quindi possiamo vedere come il ruolo di capro espiatorio diventi una cosa importante quando c'è da cambiare fase o da voltare pagina e fare qualcosa che si era pianificato di fare comunque ora perché Fauci perché Fauci è perfetto perché Fauci non è un Bill Gates Fauci è un professore ma non sia non è seduto su una montagna enorme di denaro che può muovere a suo piacimento è seduto su un sistema di amicizie e di rispetto reciproco che lo tiene in una posizione importante burocraticamente molto importante e quindi però è molto più facile di un Bill Gates da buttare giù dalla sua posizione perché per esempio come abbiamo visto lui è legato a questa ricerca a Wuhan ed è molto facile facendo uscire appunto magari delle email e vedremo magari se uscirà qualche altra cosa di meno pubblico è molto facile a ditarlo come il deus ex macchina di una qualsiasi macchinazione ah è stato lui che ci ha nascosto per tutto questo tempo che il virus era partito da Wuhan è stato lui che ci ha nascosto che potevamo fare questo invece di quest'altro per qualsiasi motivo perché è lui che vuole il potere voleva mantenere tutto il potere fino al motivo che è uno scienziato pazzo chissà che voleva fare eccetera eccetera ci sono mille modi in cui può essere incastrato proprio perché per la natura del suo lavoro è immerso completamente nella narrazione e quindi nel momento in cui ci sarà bisogno di riabilitare l'establishment non si fa altro che fargli fare la fine di craxi mandarlo ad ammamette da qualche parte fargli un bel processo o licenziarlo pubblicamente eccetera eccetera e tutti quelli che sono sotto accanto a lui o sopra di lui poverini sono stati semplicemente fregati dallo scienziato pazzo e quindi sono belli buoni come sempre ma perché perché c'è bisogno eventualmente di prepararsi per buttare giù un personaggio come Fauci e questo ce lo spiega uno dei dei padri fondatori degli Stati Uniti Benjamin Franklin e lui diceva questa frase bellissima secondo me che è tre persone possono mantenere un segreto se due di loro sono morte e questa è una frase l'altra frase che ha a che vedere con questa questione secondo me nessun piano sopravvive al nemico che significa che se noi prendiamo facciamo mettiamo conto non sto dicendo che è così ma mettiamo conto che tutto quello che ci erano raccontato e quello che ci è successo sia stato in qualche modo pianificato e o narrato in maniera pianificata il fatto che i segreti non si possono mantenere in eterno significa che prima o poi una parte della verità almeno viene a galla e quindi bisogna prepararsi in anticipo a questo bisogna appunto prepararsi un capo espiatorio e quindi poi c'è anche il fatto che anche se ci sono questi apparati di controllo anche se ci sono queste cupole e chi ha visto il mio video le mani sulla tua salute uno e due potrà capire meglio di cosa parlo anche se ci sono quindi queste cupole che controllano la ricerca la medicina eccetera queste cupole non arrivano a tutti non tutti sono consapevoli del ruolo che stanno svolgendo all'interno di queste correnti ci sono persone in buonissima fede dappertutto anzi la maggior parte lo sono e quindi ci sono persone che in buona fede per sbaglio prima o poi la verità la incontrano e la tirano fuori questo è il senso di nessun piano sopravvive al nemico diciamo e quindi e quindi appunto acquista senso il fatto che un potere si prepari a scartare uno dei suoi per fargli fare fargli fare da capo espiatorio e quindi questa è la mia lettura di quello che è successo fino adesso non so Fabio cosa è interessante l'ipotesi appunto che arrivi una sorta di nuovo Fauci più adatto perché è una fase dove servono i più adatti citavi citavi Draghi come lo vedi operare questo Draghi rispetto al suo predecessore c'è la sensazione che alla fine al di là di alcuni fronti dove sicuramente è riuscito anche a fare le cose in modo più veloce quelle chiaramente funzionali all'agenda di chi ha favorito la sua la sua ascesa con la differenza che adesso lo dice Draghi e tutti stanno zitti mentre magari prima più o meno alcune delle stesse cose arrivavano dal precedente governo e magari c'era una certa litigiosità invece adesso tutti zitti e si fa quello che dice lui è proprio per quello che serve Draghi come dire quando si mette una persona come Draghi si manda un segnale a tutti i giocatori in campo che è arrivato Cristiano Ronaldo e la palla va passata a lui e basta vi spiego e quindi e quindi questa io non so adesso cosa farà l'eventuale successore di Fauci se devo speculare perché questo dipende da da cosa serve a livello della gestione sanitaria mentre con Draghi io sono un po' più ferrato nel senso che cosa serve nella gestione politica il mio pane quotidiano cosa serve nella gestione sanitaria lo è un po' meno anzi molto meno però se posso fare alcune speculazioni posso pensare che se appunto dovesse uscire delle problematiche per esempio con con le vaccinazioni e dovessero sostituire la politica o uscire indenni da una politica che magari tira fuori più danni di quello che pensavano possono mettere una persona altrettanto influente magari in un altro ramo che si occupi di spostare i soldi i capitali le connessioni eccetera eccetera sul prossimo investimento diciamo così quindi io presumo che si tratti di questo però non posso esserne certo perché questo dipende da informazioni che non ho ovvero ci sono problematiche con i vaccini ci sono problematiche con la narrazione io posso sapere soltanto quelle che mi arrivano quelle che non lo conosco magari altri personaggi all'interno di queste strutture conoscono non mi permettono di fare un'analisi così in anticipo diciamo però posso un'idea più o meno ce l'ho che è questa a proposito di narrativa secondo te sta effettivamente cambiando perché una delle interpretazioni che così che si sente anche dire in rete è che non che la situazione necessariamente debba migliorare per noi nel senso può esserci un cambio di paradigma cioè il paradigma lockdown chiusure secondo alcuni ripartirà come se niente fosse a ottobre ricominciamo con adesso c'è l'allarme in questi giorni della variante delta magari si incolperà i non vaccinati e quindi per giustificare forse l'obbligo o comunque nuove chiusure questo è uno scenario poi c'è un altro scenario che è quello di un apparente ritorno però a una nuova normalità quindi e quindi sta cambiando la narrativa anche Speranza sembra parlare in modo diverso lo stesso Draghi i primi tempi diceva prepararsi alle nuove pandemie adesso anche la von der Leyen ha detto no non deve assolutamente accadere più una cosa del genere quindi si va a cercare la responsabilità della Cina ecco verso quale scenario tu sei più propenso beh io sono abbastanza pragmatico se hanno messo Draghi per spendere i soldi e li dovranno spendere dovranno far ripartire qualcosa e quindi lo scenario di continui lockdown mi sembra può essere ma non mi sembra molto plausibile perché perché appunto c'è da spendere questi soldi e perché man mano che aumentano le vaccinazioni e se poi fai le vaccinazioni i vaccini tutti e poi devi fare comunque il lockdown anche i più diciamo anche le persone che più si fidano della narrazione ufficiale potrebbero cominciare ad avere qualche dubbio quindi non so purtroppo non ho la sfera di cristallo però posso dire che si stanno preparando almeno le mosse che stiamo vedendo in questo momento appunto come dici tu cambiano un po' le parole le direzioni la von der Leyen dice questo significa che sono pronti ad una nuova narrazione di qualche di qualche tipo o e non credo che sia così devastante nel senso dal nostro punto di vista penso che il peggio lo stiamo vivendo tuttora ma che a meno che non vogliano proprio dare una svolta autoritaria a tutto molto più autoritaria che però la vedo abbastanza difficile perché le persone non tutte le persone sono disposte ad accettarla passivamente credo c'è una buona quantità di persone che stiamo vedendo che è sempre più attenta a quello che succede in maniera critica e il rischio di andare incontro ad ulteriori controsensi cioè si vaccinano tutti e poi bisogna rifare i lockdown rischiano appunto di essere controproducenti per chi controlla le sorti politiche del mondo secondo te il caos che in questi giorni relativo ai vaccini cioè alla fine anche le peggiori intenzioni al potere non riescono nel senso che comunque poi c'è qualcosa che gli manda in fumo i piani o magari tutto questo è funzionale per qualcos'altro ancora per far vedere che comunque ci tengono alla nostra salute quindi cambiano in corsa il protocollo la direttiva quello che ne viene fuoco insomma è un grande caos comunque beh se fosse così speranza non avrebbe fatto ricorso contro le cure domiciliari per rimpostare Tachipirina e Vigilattesa scusa un attimo mi puoi ripetere la domanda perché mi sono un attimo perso scusami però è chiaro che ecco se alla fine perché spesso le persone temono il peggio temono che questi disegni del potere magari appunto diventano scenari da incubo in realtà poi a volte vediamo che nella storia qualcosa va storto a questo potere non so se questo può essere considerato un esempio sì nella storia va sempre storto qualcosa al potere il famoso detto il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e io ho constatato che succede molto spesso nella storia non per niente si preparano ad avere dei capri espiatori perché appunto sanno che i migliori piani possono andare possono essere deragliati ma io penso che sia proprio un meccanismo che funziona così un meccanismo evolutivo questa è una mia opinione personale se pensiamo che duemila anni fa cioè noi viviamo sempre siccome siamo bombardati da queste notizie negative proprio perché abbiamo la possibilità di informarci costantemente 24 ore al giorno sui tv sui social eccetera eccetera noi pensiamo che questo sia il momento più drammatico della storia dell'umanità in cui i poteri cattivi ci stanno facendo le cose che non si erano mai azzardati a farci prima beh questo è un punto di vista che come tu sai noi di Coscienza in Rete ribaltiamo per noi è vero l'opposto le cose peggiori ce le facevano prima come dicevo duemila anni fa per farci divertire ci chiudevano dentro uno stadio e ci facevano guardare le bestie che squartavano le persone non è più così non è più così a mio modesto parere proprio perché il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e quindi c'è sempre un risvolto evolutivo positivo dietro quello dietro gli ostacoli che ci appaiono come brutti nel momento in cui li viviamo ma che secondo il nostro punto di vista sono semplicemente il meccanismo evolutivo gli ostacoli che arrivano per favorire l'evoluzione infatti no poi che quando viene Fausto chiudiamo sempre in modo positivo e già questa potrebbe essere una chiusura positiva anche perché eventi di questo tipo intanto fanno risvegliare magari quelle persone un po' più sensibili che non riescono a comprendere quello che sentono dentro cioè con quello che vedono fuori cominciano a farsi domande magari si imbattono in un'analisi come la tua e magari non ci sarebbero imbattuti se tutto fosse rimasto come prima assolutamente assolutamente vedo tante persone in giro sui social anche per incontroversare mi dicono tutti ma sono tantissimi quelli che non hanno capito niente non riusciremo mai a fargli cambiare idea eccetera io in parte concordo in parte però mi rendo conto che sono rispetto anche solo a quando ero più giovane io rispetto a 30 anni fa anche rispetto a 20 anni fa ma anche rispetto a soli 10 anni fa io mi ricordo gli insulti che mi prendevo su coscienza in rete quando pubblicavamo degli articoli che erano critici del 5 stelle del nascente 5 stelle dicendo attenti ragazzi che questo ci puzza tanto di recinto per i dissidenti e che eventualmente le cose verranno fuori vedendo appunto li vedrai dai loro frutti vedremo cosa faranno e da lì vedremo se veramente sono una nuova forza o sono semplicemente un nuovo recinto che ci hanno dato beh io per anni per il semplice fatto di aver scritto questa cosa sono stato insultato nella maniera più indescribile da migliaia di utenti mica da uno o da due però con il tempo fortunatamente il tempo è gentiluomo ma che significa? Significa che ho notato che c'è stata un'accelerazione semplicemente negli ultimi trent'anni nella facoltà delle persone di andare avanti e di accedere al nuovo e di farsi nuove idee una volta uno era comunista tutta la vita o era fascista tutta la vita quando è arrivato Berlusconi ce lo siamo dovuti tenere per vent'anni perché per vent'anni una buona parte ha creduto ciecamente nella sua narrazione che in qualche modo era uguale a una narrazione proprio come lo è questa che stiamo vivendo in questi giorni oppure ha creduto alla narrazione di Prodi quella che diceva che con l'euro saremmo stati tutti più ricchi ora ci hanno creduto per vent'anni invece al 5 Stelle ci hanno creduto molto di meno perché sono riusciti a vedere i frutti molto prima di come facevano prima ma molto prima 5-6 anni rispetto ai venti che erano prima è una grossa accelerazione quindi io sono molto fiducioso che le cose si stiano muovendo in fondo nella maniera in cui devono andare in una maniera evolutiva e quindi invito tutti a controllare a fare le proprie ricerche a cercare di diffondere le informazioni che ognuno di noi pensa che siano importanti per il bene del prossimo perché questo è lo strumento che abbiamo è la cosa che possiamo fare nella pratica per migliorare il mondo intorno a noi noi non abbiamo eserciti non abbiamo apparati di spionaggio che ci permettono o giornali o mezzi di comunicazione così grandi che ci permettono di contrastare le narrazioni di questi poteri però noi abbiamo una cosa che questi poteri non hanno noi abbiamo veramente voglia di dare una mano a chi ci è vicino cioè vogliamo il bene delle persone intorno a noi questo in realtà è la differenza e questa non sembra ma è un'arma che gli appartenenti a queste correnti non possono usare perché chi fa questo gioco in ultima analisi lo fa sempre per il proprio egoismo per avere più potere per avere più soldi per avere non lo so in genere è una motivazione egoistica e da una parte da una parte viene cavalcata da quella che chiamiamo la piramide gesuito-mazzonica viene cavalcata la voglia di bontà della gente la si maschera e viene cavalcata da persone egoiste e dall'altra l'altra piramide opposta tende a cavalcare gli egoismi delle persone e quindi a esacerbare queste ed è una piramide anche questa composta di egoisti e quindi l'unica cosa che non possono usare è la voglia di bene per il prossimo che è invece la nostra arma che tutti noi possiamo utilizzare nel nostro piccolo dove ci troviamo semplicemente condividendo un'informazione con un sorriso cercando di non entrare in conflitto con chi la pensa in maniera diversa ma cercando di farlo in una maniera che sia più utile per tutti e più in fondo amorosa grazie davvero Enrico Canotenuto come sempre l'invito a visitare il sito di coscienze in rete grazie Enrico grazie a te Fabio e grazie ai tuoi spettatori spero che ci rivedremo presto assolutamente grazie ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti